Jens Cajusse è un nuovo giocatore del Napoli. Sono davvero grato ed emozionato di essere qui. Credo sia stata la scelta più facile della mia vita giocare per un club con così tanta storia, ha dichiarato il calciatore che indosserà la maglia numero 24. E intanto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rassicura tutti sulla questione Osimène, dichiarando a Sky Sport, Osimène resta a un contratto per altri due anni, dove dovrebbe andare? Esistono dei contratti e i contratti sono sempre da rispettare da entrambe le parti, perché i contratti sono bilaterali e finché c'è la bilateralità si va sempre d'amore e d'accordo. E con Osimène la bilateralità c'è dal primo momento, quindi state sereni e state tranquilli. Ed è rientrato il caso Mario Rui. Infatti dopo quello di Giovanni Di Lorenzo, in Casa Napoli si prepara un altro rinnovo di contratto. Sarà il portoghese il prossimo campione d'Italia in carica a prolungare l'accordo con la società azzurra. L'esterno sinistro firmerà presso il rinnovo fino al 2026, un prolungamento di un anno, visto che l'attuale accordo è in scadenza il 30 giugno 2025. Risolta in queste ore dunque la situazione che aveva creato qualche tensione tra le parti, col calciatore che era arrivato ad aprire all'ipotesi di una cessione in questa sessione di mercato.